ecco dov'era ma è tutto sporca ciao ho deciso di tornare su youtube perchè mi mancano un sacco i vlog non perchè voglio fare lo youtuber ma sono le 5 di mattina sto bevendo il mio caffè perchè voglio tornare a fare vlog perchè tra snapchat instagram stories e tutto il resto è da anni che non faccio più vlog ed è una cosa che mi piaceva un sacco perchè vi portavo con me e vi facevo vivere delle giornate di vita normale ed è una cosa che voglio assolutamente riprendere quindi da questo video in poi io riprenderò a fare vlog e adesso sto per partire per budapest ho quasi finito di bere il mio caffè e niente si parte con il primo vlog ero convinto che fosse un diretto quello milano budapest invece facciamo milano francoforte budapest budapest monaco milano appena arrivato in quel di budapest direzione hotel su questo van gigantesco ragazzi siamo gasati? molto direi proprio di si e niente il programma è proiezione del film poi parti ma dopo vi spiego meglio bene siamo pronti per uscire stasera andremo alla proiezione di Gemini Man che è il nuovo film di Will Smith ed è un film pazzesco raga con una tecnologia nuova incredibile dove praticamente lui incontra se stesso giovane ma è fatto da paure non vedo l'ora di vedere questo film dopodiché finita la proiezione andremo alla festa di compleanno di Will Smith che ci hanno già detto non è proprio una festa intima cioè molto probabilmente non riusciremo neanche a incontrarlo a fare una foto perché è una specie di Tomorrowland in una piazza di budapest con migliaia di persone che gli canteranno buon compleanno e nada quindi let's go ci siamo ragazzi questo è l'invito per la proiezione ma raga ma quanto fa ridere la locandina cioè Will Smith con Will Smith e and we've got the star of Gemini Man Will Smith whoo 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 ladies and gentlemen please enjoy the movie Gemini Man whoo 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 appena usciti dalla proiezione del film bellissimo tra l'altro la tecnologia HFR Plus ha superato le mie aspettative È forse uno dei pochi 3D al mondo che mi è veramente piaciuto guardare E adesso andiamo al party di Will Smith O meglio conosciuto come Will Smith O meglio conosciuto come Siamo appena tornati dal party di compleanno di Will Smith C'era la piazza piena di Buda perché gli faceva Happy Bird È stata una roba incredibile Ed è successo appena Hey What's up man This is my room It's mine It's mine No no It's a bubble No this is my room It's on the key I'm just getting me Can we can we take a Like a selfie or Well no we No we don't need I need Oh my god All right I need you to The action Thank you Yeah hey this is Will Smith There's some dude in my room Can you send security up or something It's not a problem for me It's not a problem for me No It's not a problem All right you know forget it forget it forget it forget it it's funny All right look look the rooms are sold out tonight man I'm staying here I'm tired I'm just I'm gonna get some sleep All right so yes we just we just we just we're gonna stay here Oh my god Okay Just do what you're doing Go ahead do what you're doing Raga Non so come sia possibile ma c'è qui smith dentro la mia stanza C'è vi giuro che non so come sia possibile ma You've been here for like 45 minutes here I just I'm just gonna brush my teeth Sorry for that I'm trying to Do what you're doing just whatever you're doing Love non so let's go Crazy That's good Yeah Great GOD Did you drop your teeth and you rock your teeth? Sì. Sì, grazie. Quindi, Will, magari possiamo guardare... Il nostro primo guest è una delle più stagioni in inglese. Ma l'Italia è buona. L'Italia è buona. L'Italia è buona, alcuni miei migliori amici. Gabriele Mochino. Sì, no, no Gabriele. La ricerca della verità. Sì, no, no, no. Sì. È buono. Possiamo... Will. Sì. 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 Niente ragazzi Ci vediamo con il prossimo vlog Grazie